Buongiorno a tutti raga e buona immacolata, oggi si riposa, non si fa un cazzo, come giusto che sia. Iscrizione al canale, pollice in su e benzinero, mi raccomando, almeno all'immacolata, pollice in su e benzinero. Siamo alla vigilia di Atalanta-Milan, una partita difficile, oggi ci sarà la conferenza stampa di Mr. Pep Guardiola-Steppano Pioli e sono molto curioso di vedere quello che dirà, ma lo scopriremo insieme. Oggi voglio fare la rassegna stampa anch'io alla Rinaldo Morelli, però lui la fa la sua maniera perché è intelligente. Io la faccio alla mia, che sono una capra. E partiamo subito, sicuramente ci sarà una pagina del Milan, però sulla Gazza c'è un quadrettino proprio lì sulla sinistra con su Addio Krunic, soldi per David, cioè Krunic ha un valore tipo di 8-9 milioni, David 40, comunque soldi per David. La Gazza apre, poi mi dite se vi piace di più la mia metodologia o quella di altri a fare la rassegna stampa. La Gazza apre, Juve partita tripla, grazie al cazzo, o vinci o perdi o pareggi, cioè partita tripla. Figa. Comunque, girando, Pugba, richiesta shock, 4 anni di stop. Calcolate che, per conto mio, uno che si dopa, per dare il buon esempio a tutto il mondo, va radiato. Cioè, uno che fa il pulbo, va radiato. È anche vero che poi c'è quello che sbaglia, prende la medicina perché non sta bene, poi scopre che è dropping. Vabbè, comunque il polpo, 4 anni, fanno vedere anche quanto gli è costato alla Juve e gli sta costando tanto. Ma a prescindere dal doping è stato un acquisto del cazzo, perché non ha mai giocato. Ma la cosa più sconvolgente e più sconvolgente, l'ho vista prima sulla Gazza, la signora c'è Copminers. Copminers arriva alla Juve a gennaio, è un colpo pazzesco per il centrocampo, perché è fortissimo. Però quello che io dico io è, cioè voi volete prendere Copminers vendendo sulle un grandissimo talento, uno che nei prossimi anni ne sentirete parlare davvero bene, è il Link Junior. Cioè, praticamente, volete vendere i vostri migliori giovani per prendere Copminers. Io me li terrei e andrei a prendere Copminers. Poi fate, piuttosto vendo Mekin, vendo Locatelli che mi fa cagare, ma questi due io li terrei. Sotto la lente finisce pure il bilancio 21 e 22. Molto strano, raga, il 21 e 22. Radiati, vanno radiati questi qua, devono essere irradiati. Poi niente, Walter Mazzari, il vecchio Valterone, quello che protestava e si lamentava, è sparito, è andato in pensione. Vincerà chi fa più squadra. Questa qua è veramente una cazzata, veramente una fottuta cazzata. Vincerà chi è più forte, chi giocherà meglio, chi avrà più voglia di vincere, più fammi e poi gli episodi. Perché se va in vantaggio la Juve mette il pullman e è finita la festa. Poi, l'oro dell'Inter, da 0 a 70 milioni, Turan in orbita, così lo studente fa ricco il club. E cazzo, vedete delle volte ad azzeccare i parametri 0. Tu azzecchi i parametri 0 e fai soldi, come ha fatto l'Inter su Turan. Lautaro ammette, per il rinnovo manca poco e voglio trofei, 7 milioni. I big si trattano così, raga, 7 milioni. Piuttosto di perdere un big gli do 7 milioni. Se vuoi vincere, se vuoi vincere a chiacchiere, invece li vendi. Krunic, Krunic. Speriamo, raga, speriamo, speriamo, arriva il Penerva, c'è per prendersi. Rade, il Milan vuole 10 milioni, li userà per David. Li userà per David quest'estate, perché chi pensa che David arrivi a Zenaio, salvo che davvero facciamo il miracolo che entra nella storia degli anni del Milan e passiamo il turno di Champions, sarà dura che prendiamo David. Poi magari a giugno, però io ve lo dico già, ve lo dico in anteprima, preferisco Sesco a David. Non lo so, a me questo David, se viene va bene, perché comunque è un buon vero, ma non mi ha mai convinto appieno. Sesco mi piace. Cioè è il mio, è quello che io andrei proprio a puntare a testa bassa. Il buon Nizia qua l'accordo con i turchi, presto a Milano, la sua cessione finanzia l'assalto al centro avanti. Il Paul, il canadese, risale Guilassi. Anche questo invece lo puoi prendere già a gennaio, perché ha una clausa recissoria di 17 milioni dallo Stoccarda, sta facendo gol a Raffica. Se arrivasse, non è male. Ma domani la super sfida, dice la Gaza, non è solo una sfida Milan contro Atalanta, ma è una sfida Milan contro Cez De Ketteler, soprannominato De Keteteri. La sfiga vuole che sarà una partita dove questo segna. Me lo sono già segnato, segna. Questo è da mettere alla sisa. Oggi si decide, Spioli spera di averlo almeno in panchina. Raga, io penso questa cosa su Leao. Adesso, a parte tutto, ma Leao, se dovesse essere a disposizione, non può partire titolare. Cioè, è vero, abbiamo pochissime chance, il campionato conta di più a oggi, perché è quella più fattibile. Però io Leao me lo rischio tutto per la partita con Newcastle. Un Newcastle che sta messo con le pezze, sta messo con le pezze. Fra poco ha più infortuni di noi. Il mio miracolo nel derby doppietta degli ultimi dieci. Leao non si è accorto. Vabbè, chi se ne fotte. Gli scontenti, da Sascio a Zeballos. Talenti messi da parte. In Italia, chi ci pensa? Vabbè, io Sascio lo prenderei anche domani. Se venisse in prestito io questo, me lo prendo anche domani. Però ci vuole ambizioni, ci vuole la voglia di prendere un grande giocatore e di pagarlo. Ivan in cabia di resia, Ilic al comando. Vabbè, qua stiamo parlando del Toro. Sfida Champions tra amici. Gol e sentimenti. Carica Dybala per la rimonta della Roma. Io vi dico questa cosa, raga. Dybala e Lukaku, se stanno bene e non si fanno male, sono la coppia d'attacco più forte del campionato, assieme ovviamente a Lautaro Martinez e Turan. Quindi i napoletani devono avere paura per il quarto posto. Guardate che la Roma, se non si fanno male questi, è forte. Io per il momento non voglio avere paura. deferimento Mourinho vicino, via torna e dalla carica, ma a gennaio resta o va? Eh, speriamo che resta, ce l'ho a fantacalcio, raga. E basta. Queste qua sono le notizie un po' più importanti della giornata. Oggi ci sarà, come vi ho detto all'inizio, la conferenza stampa di Mr. Stefano Pioli. Vediamo, vediamo quello che dice. Speriamo, vabbè, dire sempre le stesse cose. Però adesso stiamo anche recuperando gli infortuni. L'ambiente, secondo me, è più sereno. Quindi vediamo. Non è una partita facile. Chi pensa che l'Atalanta contro il Milan sarà quella contro il Torino, se lo deve scordare. Anzi, ci avranno il dente avvelenato. Guardate che qua, al mio paese, ci credono. Sempre Forza Milan, iscrivetevi al canale. Buona Immacolata a tutti.